Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Frascarolo e questa è la chiesa parrucchiale. Abbiamo un concerto di 5 campane, non proprio intonatissimo perché la campana maggiore risulta abbastanza crescente e adesso aspettiamo la distesa festiva per la messa di Cristo Re. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.